Lunedì 13 settembre il ritorno sui banchi per 114.000 studenti in Umbria, anche a Perugia, la campanella ha suonato con il sindaco Andrea Romizzi che ha deciso di manifestare la sua vicinanza iniziando il suo tour dall'Istituto Comprensivo 14 di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Colombella e Montelaguardia, colpito dall'alluviano dello scorso 23 agosto. Lì alcuni interventi, quelli più urgenti, sono stati già realizzati subito dopo quelle giornate complesse. Su Ponte Felcino, dove abbiamo avuto dei danni consistenti, è in programma un intervento. Al momento abbiamo comunque diversamente riorganizzato con la scuola gli spazi, riallocando gli studenti in altre aule, ma certamente a breve riusciremo anche a restituire quei locali ad un utilizzo per la funzione scolastica. È stata l'occasione per ringraziare la dirigente, tutto il personale, tutto il mondo della scuola, gli insegnanti, per il grande sforzo che hanno profuso in questi due anni. Quindi davvero con la loro generosità, con la loro professionalità e dedizione hanno fatto la differenza. E così come la differenza l'hanno fatte i ragazzi e le loro famiglie, perché mi è piaciuto oggi non solo rivolgere a loro un augurio, ma ho avuto anche il piacere a livello personale e ovviamente anche per conto dell'amministrazione di rivolgere a loro la nostra riconoscenza e la nostra ammirazione per come si sono comportati in questi lunghi mesi. La mettiamo così, quindi il miglior auspicio è quello che possa essere un anno scolastico normale. Io direi che siamo partiti con questo auspicio, io con tutto quanto il corpo docente, l'abbiamo trasmesso stamattina ai ragazzi, anche attraverso appunto il saluto che il sindaco ha voluto portare. Partiamo con positività, perché con positività dobbiamo partire, pensando che siamo in un periodo di cambiamento grande, un cambiamento veramente, un viraggio totale rispetto al passato. Per quanto riguarda il discorso della relazionalità, noi abbiamo aderito al piano scuola estate 2021, lanciato dal Ministero verso fine aprile e quindi quest'estate noi abbiamo avuto l'opportunità di organizzare un campus estivo completamente in inglese, che ha avuto molto successo, molte adesioni e ci siamo avvalsi dell'utilizzo di quella bellissima risorsa che abbiamo intorno alla scuola, del bosco didattico. Quindi i ragazzi hanno fatto scuola all'aperto, scuola nel bosco, scuola in inglese e l'opportunità di poter fare questo Erasmus e quindi poter fare formazione e mobilità di docenti e allievi per il prossimo settennio, perché durerà sette anni. Questo insieme anche al progetto PON Apprendimento e Socialità che ci è stato finanziato, con il quale contiamo di ampliare l'offerta formativa al pomeriggio per tutte quante le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, offrendo attività di ampliamento, come dicevo, su vari argomenti, su varie tematiche, su varie discipline, come per esempio l'inglese, come per esempio la motoria, la musica, il coro, il teatro.